La salma di Lorenzo Orzetti sarà seppellita al cimitero delle Porte Sante di San Mignato al Monte. La famiglia del 33enne fiorentino ucciso in Siria lo scorso 18 marzo dall'ISIS mentre combatteva come volontario al fianco delle milizie kurde ha accolto la proposta del sindaco Nardella di tumularlo tra i cittadini illustri e i partigiani. Nei giorni scorsi i genitori di Lorenzo hanno incontrato il priore della basilica di San Mignato al Monte, padre Bernardo, con il quale hanno scelto la tomba in cui sarà seppellito il giovane. Intanto la vara con il corpo di Tekosher, questo il nome di battaglia scelto da Orzetti, ha lasciato la Siria, è arrivata a Erbil in Iraq dove si trova al momento sottoposta a varie procedure. Non abbiamo idea di quanto ci vorrà per il rientro in Italia, ha detto il padre Alessandro Orzetti, facendo intendere che le tempistiche saranno lunghe. Lo scorso 23 aprile la famiglia aveva parlato di problemi di comunicazione tra il consolato italiano e la milizia della regione, a maggioranza kurda nel nord della Siria. Problemi che però adesso sembrano risolti. In Iraq c'è tutta la parte di procedura sulla salma che non è gestita direttamente dal consolato italiano, ha spiegato ancora il padre di Lorenzo, come il riconoscimento medico legale.